Sono frammenti di asteroide che solcano il cielo e arrivano sulla Terra, perdendosi in fondo agli oceani o atterrando in zone del nostro pianeta in cui un piccolo esercito di appassionati si diletta nella loro ricerca. I meteoriti sbarcano adesso anche da Christis. È notizia di pochi giorni fa che la prestigiosa Casa d'Aste a fine maggio batterà tra i suoi pezzi un frammento di luna oltre a un'altra quarantina di rocce venute dallo spazio. Abbiamo parlato del loro fascino ma anche del loro ruolo nella ricerca scientifica con Ettore Perozzi, fisico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Innanzitutto abbiamo chiarito cosa intendiamo per meteoriti. Scientificamente i meteoriti sono dei pezzettini di asteroidi. Siccome gli asteroidi hanno delle caratteristiche primitive è come un po' guardare nel passato o nel passato del Sistema Solare, quindi scientificamente avere un pezzetto dei mattoni con cui sono stati costruiti poi i pianeti. Quindi vedete proprio il materiale originario da cui sono formati i pianeti. oppure in parte ci sono i meteoriti metallici che sono sostanzialmente i nuclei di planetoidi, quindi è un po' come dire riesco a toccare quello che dovrebbe stare al centro della Terra, nel centro del centro della Terra. Quindi c'è tutta una serie di implicazioni scientifiche molto interessanti. E poi c'è un punto che è un po' la frontiera attualmente della ricerca, perché i meteoriti non sono altro che piccoli asteroidi di qualche metro che entrano in collisione con la Terra di fatto, però siccome sono piccoli si bruciano quasi completamente nell'atmosfera e quello che avanza è i meteoriti. Perché noi non riusciamo a predire dove cadono i meteoriti ma andiamo a caccia di meteoriti? Perché è molto difficile riuscire a predire, a vederli prima che cadano. Perché è un oggetto di qualche metro, ci vogliono vedere i telescopi molto particolari per riuscire a vederlo. Non grandi, ma che abbiano un campo abbastanza grande. Cioè ci sono una serie di motivi per cui sono telescopi molto particolari. E per la prima volta, diciamo da un po' di tempo, sono successi dei casi in cui siamo riusciti a vedere i meteoriti prima che cadano. Qual è l'importanza? È che vedendolo già nello spazio possiamo calcolare le traiettorie e dire anche più o meno dove è caccato e quindi andarlo a recuperare. E questo è successo tre volte fino adesso, negli ultimi dieci anni. Con le tecniche affinate di recente è stato possibile prevedere l'arrivo di piccoli asteroidi con un giorno di anticipo. Quello che ci si aspetta, spiega Perozzi, è che in futuro sia la normalità riuscire a prevedere le traiettorie di asteroidi prima che diventino meteoriti che, lo ricordiamo, non sono rischiosi per l'uomo. In particolare, l'Agenzia Spaziale Italiana sta promuovendo l'installazione in Sicilia del telescopio FlyEye dell'Agenzia Spaziale Europea, destinato proprio alla scoperta di asteroidi che passano nei dintorni della Terra. Il telescopio si chiama FlyEye, occhio di mostra, proprio per l'effetto che dicevo. Cioè, è un telescopio abbastanza potente da poter vedere con gli atti piccoli ma anche con un grande capo. FlyEye è un telescopio che ci aspettiamo per quando? Cioè, è attualmente in costruzione? Allora, il telescopio, sì, è attualmente in costruzione, ma è stato molto avanzato. Diciamo che la costruzione del primo esemplare finirà alla fine, all'inizio del prossimo anno. E ci siamo. Dopodiché, diciamo, i telescopi sono oggetti delicati, avrà bisogno di una parte di messa a punto, software, eccetera, ma è un oggetto molto particolare. È come un telescopio con un progetto fatto in Italia dall'istituzione dell'astrofisica, con un trucco sotto, diciamo, un'innovazione che fa sì che questo telescopio è equivalente a 16 telescopi. Quindi da un campo di vista di 42 gradi quadrati, tenendo conto che sono più di 160 lune. Cioè, questo telescopio è in grado di vedere un pezzo di cielo come se le mettesse i 160 lune una vicino all'altra. FlyEye sarà installato in Sicilia sul Monte Mufara, nelle Madonie. L'osservazione del cielo in cerca di meteoriti può intanto contare anche sul supporto della rete Prisma, la stessa che si è attivata pochi mesi fa alla ricerca del meteorite di Capodanno. Il funzionamento è a basso costo, si basa sull'uso di internet e telecamere che vedono tutto il cielo. Avvistata la striscia di un meteorite in caduta, tramite la rete vengono inviati i dati a un centro di elaborazione, in grado di fornire le coordinate dell'area in cui è caduto. Come si fa però a capire se il meteorite trovato viene proprio dal cielo e non si tratta invece di un sasso, bisogna rivolgersi a degli esperti che analizzeranno il reperto. Un indizio importante è controllare se contiene ferro e per farlo può essere usato un semplice magnete, ma solo le analisi della composizione sveleranno se è un prodotto terrestre o se invece arriva dallo spazio, ci ha spiegato Perozzi. Un altro fenomeno tipico che distingue il meteorite da una roccia terrestre è il segno dello stress termico. Attraversando l'atmosfera si è bruciato e sulla sua superficie questo passaggio a altissima temperatura sarà visibile. Il meteorite ha anche un valore economico. C'è un mercato perché sono delle preziosi, perché si trovano poche, sono rare e quindi hanno un loro mercato, nulla di mostruoso, però insomma un meteorite di qualche tipo può arrivare a fare più migliaia di euro, stiamo parlando di quelle città. Poi ci sono cose particolari, il meteorite marziano che è un pezzetto di grossa marziana e gli è stato da un impatto dell'aria sulla terra e lì sono prezzi molto molto alti, tipo 10, 20, 30 mila euro per un po' di più. Diciamo c'è tutto un mondo di pietre rare, chiamiamole pietre rare. Chi non è interessato né alla ricerca né all'acquisto di meteoriti li può però ammirare nei musei. Il Vaticano ne ha una bellissima collezione, ci racconta Perozzi, così come il Museo di Mineralogia dell'Università Sapienza di Roma e il Museo di Scienze Planetarie di Prato. Grazie a tutti.